Al termine della gara persa sul campo della Cremonese, ha parlato il tecnico del Brescia Pasquale Marino. Ci sono stati dei passi in avanti rispetto alla sconfitta contro il Novara di sabato scorso ma non è bastato. Bisogna essere più tanti attenti in fase difensiva, non si possono concedere i gol presi questa sera. Così rischi di rovinare ottime prestazioni. Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta. Bisogna tener conto anche che abbiamo affrontato una squadra davvero importante, lotterà per i vertici riporta Brescia Inghul. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.